Il Giro d'Italia 2016 edizione numero 99 prenderà il via il prossimo 6 maggio delle città olandesi di Alpeldorn per concludersi il 29 maggio a Torino dopo 21 tappe che prevedono due cronometri individuali, una crono scalata e quattro tappe di alta montagna. E' stato reso noto nel corso della presentazione della corsa a Milano che tra le 21 trappe la quarta che si svolgerà martedì 10 maggio sarà la Catanzaro Praiammare di 191 km. Grazie a tutti.